Omilia dell'ascensione Quaranta giorni dopo la resurrezione, Gesù ascende al cielo davanti agli sguardi stupiti degli Apostoli. Prima di benedirli, Egli dà loro la missione di predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Da una parte, dunque, l'ascensione del Signore ci invita a innalzare il nostro pensiero alle realtà celesti, distaccandolo dalla terra. Dall'altra parte, essa ci insegna a non rimanere inerti in una passiva attesa del ritorno del Signore, ma a edificare il Regno di Dio in questo mondo. Nella prima lettura, gli angeli richiamarono gli Apostoli con queste parole «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» Con queste parole non si vuole assolutamente mettere in secondo piano la preghiera, che è senz'altro indispensabile nella Chiesa, ma si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che è urgente l'annunzio missionario da diffondere nel mondo intero. Pertanto, se in poche parole vogliamo sintetizzare il messaggio di questa solennità, possiamo dire che, alla luce dell'ascensione del Signore, siamo esortati a innalzare i nostri cuori al cielo e appoggiare bene i nostri piedi a terra, adoperandoci per la diffusione del Vangelo. Ci vuole la contemplazione, ci vuole l'azione. Questi due elementi vanno sempre insieme. Le sorti di questo mondo non si migliorano nelle discussioni, nelle riunioni, nelle pianificazioni, ma innalzando il cuore al Signore e attingendo da Lui la luce e la forza per operare e per diffondere il bene nel mondo. Nella prima lettura di oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli, si legge infatti che gli Apostoli dovevano essere testimoni del Signore risorto in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della Terra. La Chiesa ha dato sempre grande importanza a questa richiesta del Signore, adoperandosi con impegno all'opera missionaria. La vita del missionario è caratterizzata da tante buone opere a favore dei poveri e dei bisognosi. Pensiamo a quanto si fa per loro in tutte le missioni cattoliche sparse per il mondo. Quante opere non devono mancare, ma non sono la cosa più importante. La cosa più importante è messa in luce dalla parola di Gesù e consiste nel predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. In poche parole, il missionario innanzitutto deve portare Gesù alle anime, deve farglielo conoscere e amare. Insieme a questo poi verranno le opere di carità corporale che testimonieranno l'autentica carità cristiana. L'Ascensione non ha separato Gesù dalla sua Chiesa. Anche se è salito al cielo, Egli continua ad essere sempre con noi. Egli non si è separato da noi, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è Lui saremo anche noi, uniti nella stessa gloria. Fin da adesso pensiamo spesso a questa gloria che ci attende nei cieli. In Gesù risorto e asceso al cielo, noi contempliamo quella che sarà anche la nostra meta finale. La festa di oggi ci insegna che non siamo stati creati per questa terra, ma per il paradiso, solo lì i nostri cuori troveranno la vera pace. Qui giù ci sarà sempre qualcosa per cui penare e questo Dio lo permette per farci desiderare ancora più ardentemente il cielo. Anche se tante saranno le prove da superare, abbiamo però un porto sicuro dove rifugiarci, la preghiera. Con la preghiera, che giustamente è stata definita l'elevazione della mente a Dio, noi ci innalzeremo al di sopra di tutte le miserie umane e attingeremo la forza per affrontare meglio i doveri della nostra giornata. Come un albero si riconosce dai frutti, così la bontà della nostra preghiera si riconoscerà dal miglioramento della vita che ne dovrà conseguire. Se compieremo i nostri doveri meglio di prima, allora sarà segno che avremo pregato veramente bene.